Il sindaco ha confermato la totale indisponibilità della sua amministrazione al consenso a un'apertura di una struttura di accoglienza per immigrati. Nessun dietro fronte alla fine il centro di accoglienza a 20 miglia, così come in altri comuni del Ponente, non si farà. Dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, convocato stamane in Prefettura e Imperia, esce una linea chiara al di là delle aperture che sembravano emergere in questi giorni nella stessa maggioranza consigliare. Nessun campo roia bis, dunque, si ribadisce con forza, anche se sono le opzioni alternative per risolvere la gestione dei migranti in città non ce ne sono. La palla a questo punto passa al Ministero, domani a sorpresa verrà in visita da Roma a 20 miglia al Prefetto Michele Di Bari. Qualunque sia la risposta, deve essere una risposta che migliori la qualità della vita dei ventimigliesi, che finisca questa percezione di insicurezza che ormai è generale nella città, e che la città possa affrontare il periodo estivo e tutto il resto dell'anno con una certa più tranquillità. Sicurezza, bivacchi, arrivi, degrado urbano, 20 miglia da domani, vuole voltare pagina.